Rino Barillari, cacciatore delle immagini della notte. Alimentando un lavoro molto difficile con le nuove tecnologie, però secondo me il vero paparazzo ha la testa perché le foto non si fanno tanto per fare. Nelle foto ci deve essere una storia, un fatto da raccontare dove la gente non può smentire, non solo. E' così perfetto il servizio quando due persone che si vogliono bene, si amano, c'è il bacio e tu devi aspettare un'ora, due, tre ore, quattro, una settimana, due e questa è la professione del paparazzo.